ciao ben trovati a tutti buon weekend il punto sul silver con candele giapponesi time frame daily e possiamo vedere un qualcosa di estremamente interessante nelle ultime tre sessioni mercoledì con candela pesante ribassiste poi due candele rialziste giovedì e venerdì praticamente abbiamo questo livello che era stato un importante livello supportivo rotto con la candela di giovedì tiene ancora la resistenza venerdì invece la ripartenza con la chiusura sopra alla apertura della candela birici di mercoledì quindi le due candele successive annullano questa candela il prezzo torna sopra alla resistenza quindi per ora ci possiamo aspettare nel breve una prosecuzione rialzista dico nel breve perché abbiamo chiaramente vediamo a occhio un trend primario consolidato e ribassista e abbiamo proprio chiaramente poi un livello di resistenza dinamica trend line che ci sembra anche a occhio sufficientemente chiaro quale potrebbe essere l'obiettivo il target chiaramente andare a prendere la resistenza mondinaria 23 50 circa che è un livello dove poi andremo sostanzialmente a riprendere una nuova un nuovo livello statico sia orizzontale estremamente anche in questo caso importante che era stato più volte supporto e poi rotto e quindi potremmo andarlo a ritestare in concomitanza con la trend line dinamica trovando quindi una doppia resistenza che potrà dare in là a una gamba nuova di bassista per la prosecuzione di quello che è il trend il trend primario e vediamo anche in maniera molto precisa come il pullback che quale appunto abbiamo appena parlato potrebbe essere diciamo confermato anche tramite la griglia di fibonacci che estenderebbe proprio il pullback a questo livello quindi sulla nostra resistenza statica individuata prima è coincidente con questa dinamica di lungo periodo e sostanzialmente il tutto fatto il massimo di fibonacci da questa questo massimo relativo fino all'ultimo minimo il tutto coinciderebbe in maniera precisa eccoci qua con il livello più importante il livello aureo 0.618 1618 di fibonacci che appunto vediamo passa in area 23 60 noi 23 50 15 siamo per cui credo che potremmo assistere nelle prime sessioni della settimana alla prosecuzione rialzista con target 23 50 23 60 per poi probabilmente questa è la mia idea poi vedere la prosecuzione del trend primario al ribasso un saluto a tutti e buon trading